Una sistematica attività di autoriciclaggio e omesso pagamento dell'IVA, grazie alla quale è riuscito a mettere le mani anche sul pacchetto azionario della regina calcio. Un fiume di denaro circa 15 milioni che Gianluca Gallo, imprenditore romano di 52 anni, ha reinvestito per diventare il presidente della squadra calabrese che milita nel campionato di Serie B e che non è coinvolta nell'inchiesta. Nei suoi confronti il GIP di Roma, su richiesta della procura, ha emesso ieri un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ad eseguire la misura i militari del Nuclo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza che hanno proceduto anche ad un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente di beni per un valore pari a 11 milioni 437 mila euro e alle quote sociali di 17 società. L'arresto dell'imprenditore di origini calabresi manato nel quartiere della capitale Prima Valle, arriva al termine di un'attività d'indagine che le fiamme gialle hanno svolto sulle società del gruppo MG Holding che fa capo a Gallo. Nei suoi confronti viene contestata un'attività di somministrazione fraudolenta di personale a migliaia di imprese dislocate in tutto il territorio nazionale, ricorrendo allo schema del fittizio appalto di servizi, nonché il ricorso di un meccanismo di autofinanziamento dell'attività d'impresa attraverso il sistematico messo versamento delle imposte e dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. Questo viene scritto nelle carte dell'indagine. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, coordinata dai procuratori aggiunti Giovanni Conso e Stefano Pesci, hanno riguardato i flussi finanziari tra le numerose società facenti capo a Gallo, il cui core business è rappresentato dalla somministrazione di mano d'opera, in particolare dalla fornitura e gestione di personale messo a disposizione di imprese terze che operano nei vari settori, dalla ristorazione ai servizi alberghieri, dalla pulizia alle attività di logistica e facchinaggio. Un piccolo impero composto da 1.700 dipendenti. Nel 2021 l'imprenditore era stato già oggetto di un sequestro preventivo di beni per quasi 7 milioni di euro. Dall'attività d'indagine sono emerse anche gravi elementi indiziari in ordine al sistematico reimpiego delle somme vase che hanno consentito a Gallo la scalata del Club Granata. Su questo punto, per assicurare nell'immediato la gestione delle società sottoposte a sequestro tuttora operative e dei flussi economici, è stato nominato dal giudice per le indagini preliminari, un amministratore giudizioso.